ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video e dai un'altra puntatella dedicata agli orologi delle vostre collezioni a voi che diventate protagonisti e tutti insieme guardiamo i vostri video ci divertiamo no a volte impariamo anche delle cose simpatiche delle cose che non sapevamo come partecipare lo sapete basta che seguite le istruzioni che appaiono in sovraimpressione no caricate il video su we transfer punto com e poi me lo inviate via email il link però detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpatico omega acqua terra da 39 mm con calibro 2500 orologio dei primi anni 2000 che io ho acquistato usato e ho fatto subito appena acquistato l'ho fatto revisionare da omega dal centro assistenza omega ufficiale me lo sono voluti a prendere con il corriere armato con ferrari me lo hanno riportato con il corriere armato nuovo come fosse nuovo spesa che è valsa la resa resa che valsa la spesa insomma una roba del genere anche oggi abbiamo il nostro simpatico amico ve lo faccio sentire ancora una volta fatta anche questa viva le feste iniziamo col primo video vai dito infuocato barra spaziatrice fammi spazio ciao davide ciao a tutti ciao a tutti luca da salerno salerno e come tutti ti voglio fare la mia collezione di orologi strano allora partiamo subito subito vai su watch questo è un regalo dei miei 18 anni molto carino molto affezionato perché l'edizione di atene 2004 se vorrei parto subito quei soliti commenti che faccio no questi suoni hanno proprio il loro senso di esistere a livello collezionistico però quello che mi viene in mente è minchia non si finirà mai di fare una collezione di swatch perché a parte che ce ne hanno fatti una marea ne sfornano una marea uno si dice voglio avere tutti gli swatch con atene 2004 mi viene mente allora devi pigliare tutti quelli delle olimpiadi poi tutti quelli dei mondiali secondo me sarebbe interessante invece fare una collezione di swatch seguendo un tema unico no un po più ristretto perché se no non so quale possa essere però scegliere un tema ristretto e poi incominciare andare a cercare tutti quelli dedicati a quella situazione lì oppure anche se non sono dedicati che la tua testa che il tuo cervello riesce a collegare a quell'evento lì o quel tema lì per condizioni particolari tue perché per esperienze particolari tue ecco avanti avanti che è meglio va emilton kaki bravo bello questo tutto nero molto bello molto bello bravo così ti voglio molto poi emilton jet master jet master jet master bello questo qua non ho mai visto andiamo avanti e molto bello sai dire bolova lunar pilot basta questo molto bello molto bello quarzo molto bello quarzo cavolo eberhard aiglon sempre automatico se l'ho già visto in un video recentemente andiamo avanti bravo andiamo avanti tisso tisso gentleman powermatic 80 assomiglia molto all'eberhard conquist longin conquest assomiglia molto al gentleman di prima cioè praticamente c'è tre orologi eberhard aiglon tisso gentleman e longin conquest che bene o male a grandi linee insomma si equivalgono no cioè non ci sta ci sta per l'amore del cielo però a volte uno quando c'è tanti orologi dice cavoli me lo devo prendere che sono uno talmente diverso dall'altro che quando lo indosso sento la differenza no poi non è non è che non è così anche io non lo faccio però me ne fatti vedere tre di seguito che sono molto di stile molto simile tra loro e dico che quale differenza puoi avere quando indossi uno di quelli lì se ad esempio ciò ne voglio dire come come il calamai che c'è le due corone no oppure longin legend diver che sono completamente diversi però c'ha due corone quindi uno potrebbe dire oppure sempre calamai con l'explorer 369 369 di qua vabbè dai andiamo avanti che meglio andiamo avanti veloce andiamo avanti andiamo avanti si scusa emilton scuba scacchi scuba mi piace però è molto bello poi continuiamo con longin edro conquest bravo questo qua mi piace tanto molto bello molto bello sì 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 molto bello non sei lo qua c'è icon marila qua icon grande ce l'ho avuto anch'io poi mi sono stufato poi emilton jazz master crono automatico tanta roba sì mi piace un po grandicello però mi piace molto e jazz master cronography tutti grandi li facevano eh ora non mi ricordo non so se li fanno ancora oi che bello ho il formula 1 automatico bellino sportivo ci piace emilton master collection si vede un bel blu bellissimo blu sì c'è tanti di orologia però bello questo è un'edizione limitata bello questo qua guarda qua tutta tutta la cassa il bracciale in ceramica nera lucida e i tre sottocontatori col particolare design che si sovrappongono uno con l'altro è anche originale cioè non assomiglia un cronografo che non assomiglia a nessuno dai tu ti metti sto qua è una famiglia che dovrebbero sviluppare molto moderna guardate i pulsanti come sono bello mi piace promosso anzi do anche un toppino tieni basta silenzio bombe merci bombe merci clifton gmt si guarda il suo cinturino bellissimo beh certo che bellissimo andiamo sui pezzi un po più forti allora attenzione questo regalo di mia moglie molto grande mr jets master emilton jets master maestro ce l'avevo anch'io ce l'avevo anch'io 45 46 45 io ce l'avevo 45 46 non credo ce l'avevo ce l'avevo boris lacroix trip date con fasi lunari molto bello molto bello sapevo io che era molto bello mi non piace questo che sicuramente non ti piacerà longin master è senza lancette sto orologio è senza lancette ragazzi guardate qua non ce n'è una una due tre quattro cinque sei sette lancette un orologio dalle sette lancette mamma mia com'è affollato retrocato con tutte i giorni giorni mesi giorni i numeri dei mesi giorni della settimana di serva di carica si è complicato e bello però non fa poi non lo vorrei mai no 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 fedrin constant con il suo bel movimento di manifattura ma bravo un bel pezzo questo qua ha preso bell'orologio poi passiamo alla mia top 3 a bello top di costanto prodotto che il top tiene cose ci piace il bracciale integrato di frederico sta la versione oris bello sì 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 c'è anch'io non ho visto che che modello è bombe messo il tonico momento di manufattura cinque giorni bravo bravo dopo dopo ti spiego perché allora già bonus in mio top the top eccolo qua bello dopo non geni spirit zulu time grande detto questo spero che la mia collezione sia piaciuta ma certo un saluto a tutti tanti saluti e love 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 è anche un sacco di orologi un sacco di orologi ma quello che mi preme sottolineare che c'è un sacco di orologi ma di tante marche poi tante marche proprio anche che si vedono un po' bombe mercier c'è due o tre bombe mercier maurice lacroix federico stan cioè da cercare i marchi anche quelli un pochino meno meno urlati che sono meno sotto riflettori no che chiaramente costruiscono però orologi come si deve bombe mercier fai calibri di manufattura fai un po ti quindi c'è tutta una serie di orologi interessanti ora non me li ricordo nemmeno tutti perché ce ne aveva tanti il rado ad esempio emilton vari longines vari marius lacroix cioè bravo bravo tutta una serie di orologi di che poi non serve avere orologi da 10 mila euro no se c'erano i tanti di medio livello ma che hanno anche caribinaus bravo sei promosso e ti promuovo anche se non sei stato loquace perché proprio tra un orologio e l'altro c'era il silenzio c'era il deserto del sahara è proprio almeno abbiate la compiacenza di dare un po di descrizione non dico di sovra over over talking cioè no parlare troppo ma un minimo di spiegazioni sugli orologi va bene prossimo prossimo video ciao davide ciao a tutti gli utenti del tuo canale sera ringraziarti per i contenuti che ci presenti sempre molto molto interessanti e pieni di contenuti ti presento la mia collezione partiamo dall'inizio da quelli che sono gli orologi che erano di mamma e papà con Longines tutto in oro l'ho fatto restaurare ho cercato anche la sua fibbia per renderlo il più coevo possibile non so dirti del movimento perché purtroppo quando me l'hanno restaurato e revisionato poi hanno richiuso e l'accesso al movimento viene dal vetro e temo che abbia messo anche purtroppo che ha fatto il restauro una punta di colla per cui è meglio non toccare so di per certo che un 1969 che è il mio anno di nascita e che probabilmente mia mamma l'aveva regalato a mio papà in quell'occasione bella storia senza lancetta seconda a destra invece è un muvado museum a orologio al quarzo che era l'orologio preferito da mamma proseguiamo con una veloce carrellata su quelli che erano gli orologi di quando eravamo ragazzi io e mia moglie mamma mia qualche swatch carino simpatico l'anni 90 questo sesto iu 500 al quarzo sembrava un brightling figurati un swatch crono e un braille di forma di forma il cinturino mamma mia per renderlo un pochino più piacevole e arriviamo al 1987 anno in cui i miei genitori mi hanno regalato questo ebera navitimer del centenario bello l'andario completo movimento valgiù 7750 che era un regalo di un'azienda fornitrice in base ad un raggiungimento del fatturato con l'attività di famiglia l'orologio che ho portato ininterrottamente dall'87 al 2010 ho fatto un paio di revisioni mamma mia una volta ricevuto l'orologio ho subito cercato e ordinato il scusa ecco il suo bracciale originale che trovo bellissimo mamma mia l'evento 7750 veramente ha un cararmato fantastico ma ho avuto un problema l'unico problema che ha avuto questo orologio che ho rotto il vetro accidentalmente è una cassa 36 mm 36 molto solido molto bello secondo me è un gran bel pezzo dove era in collezione si vede che è 36 mm che è piccolo perché i sottocontatori sono molto vicini al bordo quadrante e quindi il calibro è sempre lo stesso il diametro del calibro del 7750 è sempre lo stesso sia che lo metti dentro una cassa da 45 che una da 36 qua si vede che è molto vicino al bordo fa anche un effetto diverso dal solito dicevo qua siamo al 1987 altro salto temporale in avanti deciso e riaviamo al 2010 2010 quando è partita la scimmia ed ho acquistato questo explorer 39 mm top è stato presentato alla fiera di ginevra quindi l'anno di uscita di questo orologio 39 mm quindi prima versione è un orologio che tu conosci benissimo è un orologio che ho portato anche ininterrottamente per 10-12 anni facendo qualsiasi cosa lo portavo al mare in montagna sciare facendo fare tuffi bagno nell'acqua salata poi lo sciacquavo doccia perfetto orologio resistentissimo quest'anno lo farò revisionare magari ecco te proprio ho usato l'everyday watch per come deve essere usato l'everyday watch perché noi ci riempiamo la bocca dell'orologio da tutti i giorni poi chi è che ci va a fare le scalate a fare il bagno di tuffi in piscina il bagno al mare con l'explorer nessuno ce lo togliamo ci mettiamo il diverino quello che un pochino magari costa meno no perché abbiamo paura invece te poi da quello che ho capito cioè per 20 anni hai indossato l'Eberhard per 10 anni hai indossato qui cioè proprio quando si suol dire prendi una filonata e gli vai dietro no cioè da un certo punto di vista è anche piacevole avere sempre il solito orologio nel senso che ti leghi dei ricordi all'orologio un pezzo di vita chi come me ne indossa uno ogni giorno differente magari c'è un po' meno motivo di provare affetto per i momenti passati assieme all'orologio insomma mi sto un po' intrigando andiamo avanti leggera lucidatura ma anche no adesso devo ancora decidere ha qualche segno nel tempo ma ci mancherebbe un orologio che ho sempre portato al polso per 12 anni cercando di darmi cura ma comunque sfruttandolo quindi è giusto bravo fatto bene sempre nel 2005 invece ho regalato a mio moglie questo legger lecurti reverso misura media bello orologi che secondo me per una signora è uno degli orologi più belli che una signora può portare al polso veramente grandissima classe e abbiamo fatto incidere anche le iniziali di mia moglie strac si spacca bravo come te ecco ce l'ho fatto avevamo sostituito il cinturino preferivo un colore più chiaro poi avevo il suo originale di struzzo e la classica chiusura jäger lecurt jäger l'anno successivo sempre in occasione del Natale ho regalato a mia moglie questo Rolex dei tjust 16 234 quadrante madreperla e diamanti aftermarket preso di secondo polso ghiera in oro bianco e anche questo è un bellissimo orologio simpatico praticamente è il suo everyday watch ha preferito l'oyster al jubilee strano chiaramente le signore vanno sempre accontentate certo però mi fa specie che una signora cioè che il sesso femminile in generale poi magari se c'è qualche ragazza lascia i commenti qua sotto perché secondo me il jubilee che è il mio bracciale preferito ce l'ho anch'io beh lo vedrei più non più adatto più ammirato da genti sesso no? tutto sbrilluccicoso con tutti quei segmentini che si intersecano tra loro e sembra proprio un bracciale sembra no? non un bracciale dell'orologio un bracciale di gioielleria secondo me invece a lei gli è piaciuto più l'oyster così asciutto austero e sobrio sportivo ed elegante allo stesso tipo 36 mm non ha bisogno di molte presentazioni ah no però le stai facendo originale con chiaramente corredo completo bravo altro salto in avanti nel tempo poi arriviamo al 2021 goffia a cui invece mi sono regalato il mio grey watch quindi l'omega moon watch che tu conosci benissimo l'ultima referenza zaffero zaffero 42 mm 38,61 movimento orologio stupendo certo con il nuovo bracciale che va a restremare movimento a vista ecco l'unico piccolo difetto che secondo me ha questo orologio non so se tu lo pensi come mai visto che hai la stessa referenza è che il bracciale che va a restremare così tanto per me è risulta un po' leggerino al polso e la testa tende a ballare a molto perché è molto più pesante del bracciale non so cosa ne pensi ma io ho questa sensazione quando lo porto al polso comunque insomma ma non lo so non ci ho fatto caso non mi sembra se non ci ho fatto caso vuol dire che non mi sembra ma probabilmente dipende anche da quanto stretto lo metti al polso perché se lo lasci molto lasco tipo le persone che quando fanno così l'orologio gli arriva qua giù al polso gli arriva qua giù all'avambraccio no? e minchia ci sarà qualcosa che non va se ti arriva qua giù l'orologio fra un po' fai il giro su se stesso vedete che qua a me non mi si muove cioè non è strettissimo ma è stretto quindi cioè anche se fosse leggero bracciale non mi non mi spin che è ancora in giro capito? se te lo tieni laschissimo solitamente non deve passarci un dito sotto qua eh questo qua è anche forse un pochino leggermente stretto ma sto qua avendo la chiusura farfalla simpatica io non lo regolo nemmeno perché se dovesse stare a regolarlo per ogni cambio di stagione no? il polso si allarga d'estate si restringe d'inverno ha la temperatura non è che sente le stagioni è la temperatura quindi magari d'inverno qua mi sta bene d'estate non mi entra più dovrei allargarlo ma non lo allargo cioè piuttosto non lo indosso ne indosso altri stare a tribolare con le maglie aggiungi maglia metti maglia ma no ecco io questa cosa qua sullo Speedmaster non l'ho riscontrata però gran orologio e nel 2021 poi definitivamente è partita la scimmia scimmia ci sono due quarzon come dici tu eh ma però sono belli questo Aquaracer 39 mm che ho veramente trovato a un prezzaccio in rete col suo brazzale originale che è un orologio bellissimo che tengo da mettere al volo sempre stessa filosofia un pochino più piccola un 36 mm sempre un tag al quarzo anche lui acciaio e oro questo è l'orologio invece che praticamente usa mia figlia adolescente che è un Rolex è un Rolex se ne è innamorata per cui l'ho ceduto a lei brutti finali eh mamma mia mentre invece il ragazzo che è un pochino più piccolo usa questo scusate questo sector il quarzo tra contatore molto bello lui piace molto per cui ogni tanto lui si mette su questo sector sectorino come dicevo nel 2021 è ripartita la scimmia scimmia un pacchetto eh però mamma mia che non può mancare in collezione con questo quadrante tapisserie molto carino non ne ho mai visto in giro tapisserie non è non tiene bene il tempo perde forse un paio di minuti al giorno ma chi se ne frega quando voglio portarlo lo metto tanto allora la guardi da altre parti lo sappiamo tutti sul telefonino va bene però due minuti sminchiato più che altro diventa quasi un gioiello da indossare questo secondo me come dici tu simpatico è simpaticissimo ma un altro rogico non può mancare un 6.5 in collezione questo è un 94 se non ricordo male classico 37 mm movimento automatico revisionato al quale ho messo questo bracciale morellato fatto a mano cinturino eh bravo mi piace molto e ho anche il suo bracciale originale bracciale d'acciaio bravo proseguiamo con un qualche vintage questo è un roamer 35 mm primi anni 50 orologio molto importante per me orologio che era di mio zio che ho fatto restaurare completamente il quadrante era perfetto così come lo vedi conservato benissimo e non ristampato ecco ora te vedi mi assicuri quindi sei una fonte attendibile del fatto che questo quadrante è originale ok io se lo vedo per farvi capire quanto può essere difficile quante volte si si possono dare dei consigli suggerimenti sbagliati se uno mi avesse detto questo qua l'ho preso sulla bancarella cosa ne pensi e ti avrei detto eh il quadrante è troppo bianco anzi mi sembra anche di vedere del intorno alla scritta romer del bianco come se l'avessero ristampato secondo me non l'ha scritta Swiss made ma non lo so ecco avrei detto queste cose quindi avrei sbagliato completamente però ti lasciano pensare così no? invece te mi certifichi perché che il quadrante è originale e questa è la dimostrazione di come ci si possa sbagliare facilmente a dare dei giudizi o dei pareri eh cioè d'altronde ho semplicemente fatto rilucidare la cassa in oro mancava della corona non aveva il cinturino chiaramente e quindi è stato revisionato a me piacciono molto gli orologi con la secondina ore 6 e beh per cui anche questo lo porto spesso e volentieri con piacere sempre sulla stessa falsariga questo Lorenz 35mm anche lui fine anni 50 primi anni 60 con la sub second questo me l'ha regalato la mia famiglia l'anno scorso in occasione del Natale movimento stupendo cassa in acciaio 35mm orologio con un meccanismo perfetto te l'appoggio è bello volevo un crono vintage e ho trovato questo geneva sport con questo dial salmone molto carino l'anderon 48 purtroppo cassa cromata bravo altro orologio che insomma non può mancare avevo trovato questo comandischi che insomma in ottime condizioni col sommergibile al quale ho messo questo cinturino canvas un po' sportivo c'entra una minchia vabbè un orologio che non ha bisogno di presentazioni bravo veloce veloce due orologi che comunque secondo me ha senso avere in collezione il Moose Watch questa è la versione Earth che comunque comunque secondo me è una collezione importante un importante che sia ci sta certo e questo invece l'ho regalato l'anno scorso a mia moglie che era un amante delle geste della regina diciamo ci stava molto simpatica la regina Elisabetta e questa è quella che avevano fatto per la regina con gli abiti che cambiano di colore proseguiamo ancora con questo che è un altro must have secondo me nella collezione top cronomat questo è un prima serie lo si vince dalla dalla sfera dei secondi che non ha il logo breathling al fondo è un quadrante panda che sta leggermente virando come panda ho sostituito il cinturino che aveva che era veramente l'orgoro comunque la FIVIA Breisling anche lui un bel giù 7750 movimento robustissimo parte subito il primo colpo un bello orologio questo lo indosso spesso e volentieri si ho capito ma panda si intende il quadrante nero e i sottocontatori bianchi no anzi no quadrante bianco e i sottocontatori neri è come dire il panda il panda come è tutto bianco con gli occhi neri il panda questo guarda dove è che era il panda sta virando non si è capito è tutto bianco eh vabbè un orologio che sicuramente a te piace molto topone omega planet ocean questa è una storia incredibile Davide questa è veramente stata una botta di fortuna che capita forse una volta nella vita questo è un 2007 che ho preso un mese fa quindi diciamo novembre 2023 che un amico negoziante ha ritirato da una persona che l'aveva in cassetta l'ha comprato nel 2007 e l'ha messo in cassetta per cui io l'ho spellicolato nel 2023 full set aveva comprato anche in origine questo cinturino omega con la chiusura e poi ho in dotazione chiaramente anche il suo cinturino quanto l'hai pagato quello che conta è quello con una profondità veramente stupenda un orologio bellissimo e quindi insomma su quelle botte di fortuna che capitano raramente bravo quanto l'hai pagato così come ritengo una botta di fortuna per il prezzo che ho pagato questo zodiac super sea wolf mille metri un diver importante sia come dimensioni che come peso un 44 mm molto pesante ho messo un cinturino in gomma per alleggerirlo ma anche sul bracciale originale io ho la fortuna di essere grande e grosso e di avere il polso da 20 per cui devo dire che anche un ankle bracciale non faccio fatica a portarlo certo così si è sfinato un pochettino un pochino più leggero anche questo mi piace molto il quadrante che ha una grandissima profondità di lettura sembra veramente molto molto bello mi piace moltissimo molto molto bello questa parte arancione che circonda la parte luminova è un cronoma certificato COSC per cui insomma un movimento importante e molto bello bravo ed è stato l'ultimo entrato in collezione nel salutarti forse non ti ho dato il mio nome sono Roberto da Pavia e ci aggiorniamo eventualmente quando la collezione evolverà grazie ancora per tutti i tuoi video per quello che fai sul tuo canale e love 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 mi ha fatto ridere perché quando hai detto grande e grosso poi c'è il detto che dice grande e grosso e belinone allora mi è venuto da ridere perché sembrava che dicessi così cosa ti vuoi che ti dico in tutti questi orologiaci che hai questa collezione che è iniziato dall'87 a indossare gli orologi anzi da bambino poi dell'87 con l'Eberhard serio bello quel cronografo lì poi l'explorer per altri 12 anni i filoni e ora poi hai aperto gli argini proprio hai rotto la diga e cominciai a comprare e indossare orologi come fosse una girandola che poi alla fine si va a finire così tutti belli mi ha colpito sì l'Omega Planet Ocean con calibro 2500 la prima serie che guarda non ti nego che ieri o ieri l'altro sono andato sul crono 24 a spulciare a vedere un po' come siamo messi e poi l'ho visto dal Giappone ce ne sarebbero alcuni veramente che costano poco senza scatola senza garanzia a me non mi garba senza scatola senza garanzia faccio fatica però anche mettendoci dazi sopra il 30% verrebbe un prezzo abbastanza decente però poi dopo cosa faccio lo devo fare come con questo prenderlo mandarlo in assistenza e partire da zero ex novo anzi è venuto in mente il tuo che hai preso lì dal 2007 che è in cassetta ma gliel'abbiamo fatta fare una revisione perché non è che perché non è stato utilizzato l'orologio e lo tiri fuori e va bene io ho preso l'Omega 2 Deville che è stato fermo in negozio per vent'anni quindi era nuovo di pacca ho tolto le pellicole io però poi si è fermato eh cioè partiva poi estraevo la corona si fermava in secondi giustamente rinserivo la corona non partiva più quindi dava una scossetta partiva la laccetta dei secondi perché perché era secco dentro quindi ho fermato tutto ho aperto la corona fermi tutti non facciamolo girare così secco no come il motore di una macchina se non c'è l'olio fermo ho fatto fare la revisione e poi l'ho riutilizzato quindi anche te cioè non è che magari il tuo funziona ma se è del 2007 che è stato fermo lì a farlo scemo lì a guardare il buio è una revisioncina gli va data eh non ce l'hai specificato e io mi permetto di suggerirtelo prossimo video ciao davide volevo condividere con te la mia collezione di orologi va bene è una collezione che non ha un grande valore economico ma con pochi soldi ho cercato di acquistare diversi tipologie di orologi bravo vai iniziamo con con questo è un filip watch al quarzo è carino ha la cassa praticamente osagonale piuttosto particolare non male ho un classico g-shock una cassa in metallo questo mi piace mi piace molto come sai raffigura il font riprende un po quello della dei orologi delle ferrovie delle ferrovie svizzere bella la cassa perfettamente tonneganze di fatto squadrate ma in realtà non è che il font riprende quello delle ferrovie svizzere proprio l'orologio il design dell'orologio che è identico agli orologi sul palo che sono nelle stazioni sono fatti così hai capito non è il font per curiosità ho preso un suggesto per vedere il calibro questo calibro cinese come va immancabile l'orologio maserati mamma mia fashion watch quanto meno carino sottile ma come carino la sfera dei secondi e marinella non è male ma come non è male continuiamo con un orient ovviamente ma mi piaceva questo quadrante comunque si verde profondo con verde oro sta bene si questa suonatura più scura ai lati dei gradi questo è un orient anni 90 troppo al quarzo ma anche la funzione la sveglia ah beh allora questo non so cosa sia carica manuale e come puoi vedere in qualche modo può misurare le pulsazioni ho uno jungans credo sia placato oro mamma mia il fondello in metallo ho anche il cinturino dorato ma ho preferito mettere questo qui per alleggerirlo timex ho un timex ho messo questo nato in pelle credo che ci stia bene questo mi piace molto ha un classico mh35 classico micro brand mi piace perché in bronzo ha iniziato a fare la patina e gli indici sono ricordano un po il colore del trizio mi piace va bene va bene meno male niente nemmeno un saluto finale va bene ciao ti saluto io che dire capisco che hai insomma utilizzato un budget limitato con pochi soldi ma la domanda è con tutti questi soldi che hai speso per tutti questi orologi che sinceramente no di tutti non ne fanno uno mi sembrano vabbè c'erano del bambino per il resto cosa c'è l'acquatico cosa cosa ne frega di avere un acquatico un micro brand magari fatto anche bene in mezzo a tanti orologi così secondo me un micro brand come quello lì acquatico che non conoscono presumo che sono fatti bene si vede che c'è dei limiti delle finiture nella qualità però è fatto bene avrebbe più senso per assurdo in uno che c'è una collezione no di orologi da 3 4 5 mila euro e poi c'è un micro brand a scelta 1 2 perché perché gli piace ampliare la collezione avere sotto i suoi brand preferiti anche qualcosa di nuovo no qualcosa di più fresco invece avere tutti orologi quarzoni un gas a quarzo mi non si può rivedere o quarzoni o fashion watch e poi come punta l'acquatico che è un micro brand stona un po secondo me non riesco a spiegarmi bene il motivo spero abbiate capito cosa intendo dire poi per il resto mi sembra una collezione un po stantia io li prenderei tutti no no non farei un pacchetto li venderei proprio cioè quello che viene fuori viene fuori 50 60 30 20 e poi ti prendi un orologio non tutti magari l'acquatico il bambino tienili dai e ti prendi un altro orologio appare il livello di quelli lì no un bell'orologino che insomma lo indossi con piacere no che fa il suo insomma un orologio così questi qua non si possono vedere dispiace dirtelo ma sono mortificato prossimo video ciao davide complimenti innanzitutto per il canale ma grazie a prato e volevo mostrarti la mia collezione composta da innanzitutto quarzettini quarzettini quarzon che sono regali di swatch negli anni oh gli swatch mi fu regalato per il diciottesimo ce li hanno tutti gli swatch io no devo 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 comprarmeli un invicta che mi fu regalato dai miei nonni per la cresima a me piace anche perché è un ricordo però ha un bel quadrante si difende simpatico un casio si perché sei tu a destra e l'immancabile timex expedition o quarzon va per la maggiore noi veniamo alla ciccia da battaglia da battaglia ho messo un cinturino in gomma in punture gialle bravo adesso ti mostrerò dei vintage che sono tutti i ritrovamenti diciamo ricevuti in eredità tramite ritrovamenti di cui non conosco molto devo studiare se qualcuno o tu hai qualche notizia mentre li vedi è ben accetta io studierò va bene parto da questo cos'è? è un cronografo vetta che era di mio nonno materno era il suo orologio vastissimamente sistemato ma sistemato sì ma stai attento a non esagerare perché cioè quasi quasi è più ha più è veramente rovinato però io non lo farei cioè siamo al punto che dovrebbe avrebbe bisogno di una ristampa questo quadrante siamo quasi a quel punto lì praticamente e fargli una ristampa secondo me lo rovinerebbe un po' perché se lo fai pulire se ti metti a pulirlo con qualsiasi sistema io sono quasi convinto che gli scompare tutto scompare anche con un cotto fioc e acqua scompare tutto cioè con le cose più semplici è molto più molto sia molto a rischio quindi farlo sistemare guarda un po' te come fare perché diventa difficile però è bello cioè per lo meno è un reperto archeologico sicuramente è molto vecchio sicuramente è molto vecchio sembra penso anni 40 attenzione il bracciale non è il suo ti mostro quest'altro cronografo che ho trovato in un cassetto di mio nonno invece paterno invicta ecco fatto quando invicta faceva gli orologi come si deve no perché poi il marchio invicta è stato acquistato da una da una azienda americana e ha cambiato completamente cioè completamente stile lo vedete anche voi adesso fanno orologi sfacciati sfrontati giganti sportivi colorati giocattolosi cioè proprio un'altra roba poi invece era ancora invicta quella svizzera che faceva i suoi orologini senza senza particolari pregi no però era una bella casa e costano anche cioè io un paio d'anni fa a Parma ho visto un cronografo invicta così volevano più di mille euro alla fine era di Parma no? eh insomma non ce li ho spesi non ce li spenderei quindi anche sto qua diciamo lì come cifre eh il cinturino è da battaglia ma non ne avevo altri al momento è veramente un orologio a mio avviso bellissimo andrà revisionato funziona ma andrà revisionato soprattutto da parte cronografica questo il quadrante lascialo così su internet sembra che sia degli anni 40 addirittura un doyle che dovrebbe essere un marchio di livorno si degli anni 70 si 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 un assemblatore che assembrava orologi con movimenti svizzeri non so altro eh vabbè un Breitling Antares così nudo e crudo al quale devo rimettere un cinturino ma il vetro c'è guarda come sembra senza vetro da tanto trasparente che è bello qui non capisco bene se il fondello sia il suo perché c'è vero scritto una V-timer ma dalle cerchie che ho fatto lo trovo come Antares non so questo cronografo monopulsante con cassa in oro molto particolare perché questa chiusura che ricorda gli orologi da tasca o reb anche di questo non so niente e dovrò fare ricerche l'ho trovato proprio recentemente cassa in oro monopulsante mai sentito dire spiazze due longin dai facci vedere i longin oh goduria bello questo mi piace lo voglio me lo regali vetro da sistemare ci piace quando vedo i longin un altro longin dai dai in oro piccolo cassa in oro con bracciale in oro non originale accidenti vetro anche qui da sistemare ah ma io non mi interessa il vetro così io lo trarre anche così non è un problema un citizen un citizen che è simpatico non sarà un'avventura sicuramente più decente non conosco la referenza è un ritrovamento automatico carino simpatico più che carino piccolo simpatico passo invece alla collezione che mi sono costruito io oh mi si era riaccesa la passione ho acquistato questo citizen pro master automatico con ghiera verde 43 mm in titanio 200 metri non mi fa impazzire sai e a seguire e a seguire ho voluto continuare con un altro citizen citizen vai come vedrai mi piacciono i diver oh si ci piace questo secondo me bellissima questa referenza ny040 in titanio non è 040 prima versione in titanio non l'ultima che era una sorta di edizione evitata ah si ha questo quadrante con dei riflessi bellissimi un mid ocean star vai quando ho visto un cinturino è il tribute questo è il tribute eh si è niente da dire conosciutissimo eh si con il suo bel bracciale che c'ha c'è una cosa un po' più particolare non vedo l'ora un NB fondale non so se lo conosci questo marchio NB fondale in titanio e acciaio titanio di grado 5 acciaio mille metri di profondità per chi fosse curioso sul sito c'è la storia di questo diciamo micro brand che ha sede a Prato e costruisce comunque gli orologi in Toscana ma un ex dipendente Panerai vabbè vabbè su internet appunto c'è tutta la storia sarà sarà non lo so e a seguire e per concludere la mia collezione di 6 con marchio che mi è sempre piaciuto il quale mi sono appassionato e sto costruendo la collezione questo bello grigio in questa edizione con questa colorazione particolare a mio avviso bellissima sì 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 mi piace grigia così sì sei chista sei un sei chista baby marine master goffia l'alto edizione twilight cosiddetta colori strani anche questo molto bello molto bello quello non si sbaglia ma immancabile con un nato un po' più estivo l'SKX l'SKX SKX 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 ghiera blu e rossa yes ho anche tutti il braccialo originale ovviamente bravo un 6x5 da battaglia da battaglia simpatico il field watch ci sono quelli da 39 adesso che sono più carini di questo Seiko alpinist in questa colorazione che secondo me è veramente veramente bella ci piace bravo bella scelta con quelle due corone così buboniche penso che mi piace veramente più di tutti questo Seiko SPB vabbè anche a me 143 G1 la referenza tu mi piace tanto regala ho messo questo bracciale aftermarket ma qua non è anche l'originale perché 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 fate queste cose non mi piace il bracciale un bel pezzo il mio preferito al momento bu bracciale bu volevo sapere cosa ne pensi e ti ringrazio se poi qualcuno anche nei commenti avessi qualche informazione sui vintage le accetto di buon grado ti saluto e grazie per il lavoro che fai grazie a te ciao alla prossima niente per quanto riguarda tutta la parte dei vintage lì di cui non sei nulla siamo siamo sulla stessa marca nemmeno io sono nulla se non che quel Doyle come dici è un assemblatore di Livorno quindi ma poi si trova la storia di queste case qua si trova anche di Invicta ha detto che è degli anni 40 mamma mia belli 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 quegli orologi di vintage bravo poi c'è tutta una parte collezionistica della Seicoli che ci è piaciuta tanto soprattutto l'ultimo che però non mi vede d'accordo sul fatto del bracciale aftermarket non mi ci vede per niente sono anche indeciso perché a dire la verità non è che ci sta male però nel momento in cui mi ha detto che non è il suo bracciale ho fatto caso ai finali e ho visto che non non c'entrano niente con la cassa cioè proprio sono differenti io non ci riuscirei piuttosto mi faccio fare un centurino di pelle come o qualsiasi altra cosa ma no un bracciale aftermarket non ci riescono mi dispiace però quell'orologio lì è bello mi piace l'ho sempre puntato lo punto lo punterò prima o poi magari quando abbiamo un millino da spendere in più così lo facciamo ma per il resto dai ti ho commentato la collezione tutto lungo lo svolgimento begli orologi sei promosso non ti so dire altro mandami altri altri video 8 minuti durava questo minchia un po' tanto va bene dai mando discorsi inutili io direi di aver detto tutto mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino qua con me aver guardato i video spero vi siano piaciuti e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love mi resta che ringrazi